Il bollettino dell'ASREM Contagi e positivi che continuano a scendere Zero contagi, zero positivi su 63 tamponi processati nelle ultime ore Il Molise torna a brillare dopo la positività di sabato La donna a Campana, risultata positiva al coronavirus è ricoverata nel reparto di malattie infettive delle Cardarelli di Campobasso Nessuna conseguenza per il Veneziale dove la donna si era recata per sottoporsi ad un intervento chirurgico Gli attualmente positivi sono 13 I tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza 446 23.582 Gli esami processati Fino ad ora 12 Gli asintomatici a domicilio 517 Le visite delle USCA E tra i comuni Covid-free c'è anche Rocca Vivara L'unico positivo presente in paese si è ormai negativizzato da diversi giorni E allora adesso leggiamo invece primo piano Molise in apertura si occupa del Covid Hospital i dettagli del piano suggerito dai tecnici del Ministero Nella torre del Cardarelli i casi conclamati di coronavirus ma se necessario ricoveri anche al Veneziale e al Santimotio Toma ok ma chiederò di più Iorio, sconfitta politica, Giustini, sforzo di tutti per il bene del Molise E a proposito di Covid Hospital oggi l'editoriale affirma del direttore responsabile Luca Colella ne parla e scrive non era una gara di calcio Il bollettino 4 guariti nella comunità Roma lo abbiamo sentito il totale dei positivi scende a 9 poi la promozione molisano la regione sceglie i social Politica nuovo conclave di maggioranza non c'è unanimità su nomi e ruoli intesa solo sul no agli esterni in giunta oggi vertice dopo la seduta del Consiglio Isernia educatore e guida di tante generazioni la città piange padre Luigi Marro Cerce Maggiore Cucciolo abbandonato il sindaco Gino Mascia snobba la segnalazione e l'OIPA va in procura Agnone infiltrazioni d'acqua sequestrata una strada ci sono tre indagati Campobasso minaccia il vicino con una balestra denunciato per porto di arma impropria l'Istat è impietoso l'andamento demografico 2019 il Molise perde altri 3.476 abitanti e si classifica al primo posto per diminuzione di popolazione Campomarino rogo devasta 40 ettari del bosco Fantine 8 ore per domare le fiamme lo sport con la notizia di Cogliati che rinnova il professore sarà per il terzo anno bomber dei Rosso Blu dunque l'abbiamo detto anche nei nostri servizi al TG è stato trovato l'accordo e Cogliati resta lupo Agnonese servono 51.000 euro per assicurare l'iscrizione dei Granata in serie D Calcagni parla invece dell'Iserni e dice bisogna portare la squadra in categorie più consone ora invece le testate nazionali il messaggero autostrade la trincea estera oggi il CDM per la revoca della concessione ma l'esecutivo diviso potrebbe rinviare ancora il titolo a picco dopo il no ad Atlantia ipotesi commissario soci tedeschi e cinesi in allarme Recovery Fund passi avanti con Merkel ma l'accordo finale sugli aiuti è in salita il Premier alla vigilia del Consiglio UE migranti positivi mancano le navi per la quarantena il cielo è pronto il Viminale teme gli arrivi con i barchini danni alla salute per i rifiuti di Roma ama sotto inchiesta indagati sei manager sequestrato l'impianto di Roccacencia a rischio la raccolta d'estate il caso Mincione Palazzo di Londra il Vaticano sapeva dal messaggero andiamo sul Corriere della Sera Conte Merkel resta la distanza la cancelliera spinge per il compromesso il Premier non voglio cedere su nulla un'ora di colloquio in vista del vertice UE conferenza stampa comune troveremo una intesa ipotesi commissario per autostrade pressing dei soci esteri il governo oggi discute della revoca la sfida di Palamara 133 testi davanti al Consiglio superiore della magistratura per processare appunto la magistratura italiana e il suo sistema di autogoverno proprio il grande accusato Palamara parte dunque al contrattacco e nella lista ci sono ex ministri toghe entrate in politica procuratori e componenti del CSM il figlio la moglie la vita nel dolore di John Travolta perché è morta anche l'attrice Kelly Preston era purtroppo ammalata di cancro al seno e l'attore in passato aveva perso la prima compagna già poi il figlio Italia Slovenia due presidenti per mano il gesto che diventa storia insieme alla foiba di Basovizza la Repubblica virus mai più lockdown le linee guida in caso di seconda ondata economia a rischio i paesi dovranno evitare chiusure totali vaccinazioni anti-influenzali di massa in Italia scatta l'allarme per i contagi dai Balcani recovery fund conte da Merkel ma la fumata è grigia serve più coraggio piano governo su autostrade spunta l'ipotesi del commissario oggi consiglio dei ministri Atlantia crolla in borsa mattarella e lo sloveno alla foiba di Basovizza mano nella mano 75 anni dopo contro il male della storia e dal Repubblica adesso ci spostiamo sul fatto quotidiano la pacchia è finita titola il fatto United the Dollars of Benetton ecco i politici che hanno arricchito il privato con i nostri soldi oggi in CDM no alla concessione con Conte il Movimento 5 Stelle il PD e l'EU solo Renzi con Atlantia che crolla in borsa Merkel l'Unione Europea sia solidale accordo per il recovery ad alcuni malati lievi può tornare il Covid è il nuovo studio americano chi vuole B deve prendersi altri 25 impresentabili poi la lista testimoni caso Woodcock Palamara dichiara i Mattarella Bois Miracolo Bellanova legge braccianti flop al 90% regolarizza Golf andiamo ora sul sole 24 ore sostenibilità la lista nera di Blackrock nel Merino 244 colossi globali poco impegnati a investire per l'ambiente il fondo americano decide lo scontro aperto con 53 imprese per 8 società di piazza affari dubbi sui bonus mercati la borsa usa sale ma per gli utili attesicali del 45% Stati Uniti così Wall Street aumenta indice e diseguaglianze lavoro 18 settimane di cassa integrazione fino a fine anno tre vie per licenziare le ipotesi allo studio del governo in vista di un decreto le proposte un fondo unico per le crisi lavoro agile e le regole mirate autostrade la revoca è a un passo banche e soci esteri in allarme zingaretti si proceda oggi consiglio dei ministri società a rischio default infrastrutture caos Liguria un miliardo di danni e 30.000 camion bloccati e andiamo in chiusura con la gazzetta dello sport Lautaro serve il secondo l'Inter rimonta il Toro a San Siro finisce 3 a 1 Martinez e Sanchez danno spettacolo dopo Belotti gol Lazio agganciata Conte svolta c'è un progetto triennale ma non voglio essere di troppo Pioli e Gaspe gli invincibili il Milan adesso non perde più ma il futuro è Ragnic l'Atalanta delle meraviglie trova il Brescia nel derby del dolore nel dopo lockdown i due tecnici sono gli unici imbattuti quasi da Scudetto Fede vinco nell'acqua ma inizio in montagna alla scalata per Tokyo Musa a Musa dal Gambia a Bologna vi svegliamo il nostro calcio amore vita e prima di salutarci vediamo anche quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete a partire dalle 11 fuoco incrociato alle 14 il TG alle 14 30 salute 4.0 alle 16 fuoco incrociato 18 e 30 Musa TV alle 19 30 torniamo in diretta all'informazione alle 20 salute 4.0 alle 21 Marcord Bolle alle 23 l'ultimo appuntamento con il telegiornale ed è tutto anche per questa mattina grazie per averci seguito io vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi arrivederci un buon proseguimento per averci seguito